e allora a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video sono i posto delle ricolte allora la prima partita del campionato in serie a chiave juve finita così così perché la juve non ha giocato bene ma neanche benissimo cioè ha giocato un po male perché c'è la prima partita un po di rodaggio allora cioè ci sta però che stiano un altro cl7 vuol dire che non è stato uno dei migliori bacchiolato un po qua un po la ma vabbè però l'importante aver portato a casa i primi tre punti i primi tre punti grandissimi tutti anche se grandissimi è una parola un po grossa però devo dire che la juve ha provato tutti i modi ha giocato come poteva anche se ricordiamo siamo all'inizio siamo agli inizi allora così così ha giocato male cioè ha giocato malissimo però siamo riusciti a vincere a portare i tre punti a casa grande che dirà autogol di banni e bernardeschi cioè io devo dire che la partita era finita 2 a 2 finiva sull'1 a 0 posso dire che la juve c'era poi stavano stepischi i giaccherini 2 a 1 per il chievo allora io ho sudato freddo stavo sudando freddo poi grande autogol di banni banni e bernardeschi proprio alla fine cioè io credevo che la partita era finita 2 a 2 finiva il pareggio 2 a 2 poi all'ultimo minuto cioè secondo l'ultimo secondo grande bernardeschi la butta dentro e godo i primi tre punti portata a casa sono contento però la juve deve migliorare nel gioco deve migliorare perché col chievo abbiamo sofferto proprio tantissimo abbiamo sofferto proprio tanto e non va bene così non bisogna giocare così non bisogna giocare così perché cioè il chievo sembrava Real Madrid o Barcellona vabbè però ragà su 2 a 2 stava finendo la partita era un po' una delusione che era una delusione perché finire un pareggio non va bene non andava bene però meno male bernardeschi l'ha messa dentro sono contento sono contento che la juve abbia portato i primi tre punti a casa non giocando bene ma male però abbiamo vinto sono contento conclusione la juve batte chievo tra due a ben decode di verona i primi tre punti portati a casa e sono felice sono felice buon uff cioè io devo sudare devo sudare freddo non si può giocare così non si può giocare così se no veramente stiamo proprio barcollando cadendo impicchiato abbiamo un prezzo CL7 allora fai vedere chi sei cioè va bene che sei nel campionato nuovo ti do ragione ti do ragione sei nel campionato nuovo di devi ancora abituare però sono contento lo stesso di aver vinto la partita va bene va il video ha finito qua ditemi la vostra come l'avete vista se avete sofferto se avete esultato alla vittoria primi tre punti a casa fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti qua sotto come sempre trovate il link in descrizione e le football facebook youtube e instagram e musical.ly lasciate un like mi piace e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto come sempre ragazzi ci vediamo nel prossimo video ragazzi lo sono Icon ciao e alla prossima